E rieccoci qui su UrbanTube, la rubrica che si occupa dei video virali all'interno di Urban Week Salve a tutti, io sono VJ Car con la V, sì e non con la D E oggi andremo a vedere, a pescare, uno dei tanti video che YouTube ci riserva all'interno della sua sterminata e infinita libreria E sulla traccia di un duo di DJ, Drum'n'Bass, Fred V e Graphics, l'utente MeshCop ha realizzato un video molto creativo, devo dire Non è nuovo MeshCop alla realizzazione di video virali come questo, ha già realizzato molte cose divertenti in passato, ma questo ha diverse particolarità Questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano Il video è interamente girato in pieno sequenza, per chi non conosce il linguaggio cinematografico il pieno sequenza è quando la telecamera non stacca mai Un'unica ripresa continua dall'inizio alla fine Beh, ha anche la particolarità di essere stato girato tutto in modo inverso Sì vabbè, se ve lo spiego così magari non riuscite a capire, guardate Sì vabbè, se ti vuole? Sì vabbè, se vi şu an, si vabbè, guardate Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non è nuova al mondo dei videomaker, era già stata realizzata qualcosa di simile da Spike Jones con i Farside negli anni 90 circa. Beh, anche per oggi è tutto, la rubrica UrbanTube finisce qui, finisce così. Vi ricordo che è possibile sempre rivedere tutti i nostri video nella nostra fanpage Facebook, stessa fanpage dove potete consigliarci video che magari vi sono particolarmente rimasti impressi. È sicuro? Sì, è sicuro, molto sicuro, sicurissimo, ci può giurare. Vi saluto e rinnovo l'appuntamento alla puntata successiva. Alla prossima. È tutto qui semplice? È tutto chiaro? Sì, signore.